Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 8 maggio, devo dire che i giornali sono ancora incredibilmente imbarazzanti, non per quello che scrivono lui questa volta, a parte voglio dire il giornale del movimento di Conte, cioè il fatto quotidiano che è imbarazzante ma poi lo vedremo, ma gli altri giornali sono ancora lì che ci parlano della fase 2 e delle possibili liti che ci sono tra governo e regioni e sindaci su questa fase 2, che mi sembra la cosa più confusionaria che esista sulla faccia della terra, con dei sindaci che decidono, sentendosi per la prima volta, degli sceriffi o di fare cattivi o di fare buoni, poi con le regioni che ognuna, oggi c'è un'intervista a Fontana che dice attenzione sulla Lombardia, dall'altra parte c'è Boccia che è diventato il grande sceriffo chiusurista, come dice Gramellini, brusaferro, spezzaferro, quelli che portano anche un po' di menagramo tra questi grandissi espertoni che ci dicono quando aprire e quando non aprire, comunque la cosa di oggi è che aperture scontro sui negozi, perché vorrebbero aprire prima del 18 maggio, cosa che secondo me sarebbe buona e giusta, perché in un paese normale si apre, così come sta aprendo negli altri paesi, dando la responsabilità ai cittadini e non pensando che Boccia decida per tutti quanti noi, ma pensando che i cittadini siano responsabili delle mascherine, della sanificazione, dei loro negozi, che siano in grado di essere adulti, possono andare in ospedale, possono fare contratti, possono assumere persone, possono mettere in cinta delle donne, possono addirittura in questo paese abortire, che non è esattamente una cosa da bersi un bicchier d'acqua senza chiedere permesso a nessuno, ma non possono aprire i negozi, questo è il concetto di un paese liberale come il nostro, che oggi in virtù di questa emergenza che non c'è più nei numeri, ovviamente costringe tutte le nostre libertà, ma comunque il messaggero dice tra l'altro che si potrebbe arrivare, l'unico giornale che la mette in evidenza è un passaggio tra le regioni dal 25 di maggio, cioè alcune regioni, se dice il messaggero, sono a basso contagio, potrebbero vedere i confini aperti dal 25 di maggio, l'avvenire è forse la cosa più divertente di tutte, sentite che cosa dice l'avvenire, ammessa finalmente dal 18 maggio, per colpa di qualche, diciamo, vescovo un po', come possiamo dire, per non essere riguardosi, perché sono i ministri della Chiesa, non vorrei avere nei loro confronti lo stesso, diciamo, atteggiamento che c'è nei confronti dei ministri del governo, ma un po', ecco, come possiamo, donabondeschi, ecco, diciamo così, non vigliacchetti, non mi permetterai, ma questi si sono fatti fregare dal governo perché tutto era aperto, le librerie erano aperte ma non le messe, e i carabinieri, abbiamo già visto tante volte l'immagine, entravano in messa interrompendo i sacerdoti, ma i nostri vescovi zitti e muti, l'avvenire che è il loro emblema catto comunista, perché di catto c'è molto poco di comunista, moltissimo, oggi scrive, ammessa finalmente dal 18 maggio, ma Tarquinio, il superbo, cioè il loro direttore, dice, quel finalmente, scusatemi ci siamo sbagliati, nel finalmente, io non ho mai visto un direttore che corregge un titolo in un corsivo, scritto come sempre da Tarquinio, il superbo, quindi potete immaginare voi come scritto, non lo diciamo con fastidio e rammarico, no, non lo dicono con fastidio e rammarico, non c'è un rammarico, caro Tarquinio il superbo che a Pasqua non si sia andati a messa, non c'è un rammarico sul fatto che siano state impedite le messe ai sacerdoti, non c'è nessun rammarico, se non ce l'hai tu che sei Tarquinio il superbo, il direttore dei vescovi, sai che ce ne frega a noi laici che viviamo tranquillamente, qualche rammarico non andare nei negozi, non andare, non vedere la civiltà e fare quello che ha sempre fatto, io ce l'ho, ma se non ce l'ha Tarquinio il superbo che forse ha visto i più seri tra i sacerdoti ridursi alle catacombe, ma se non ce l'ha Tarquinio il superbo non ce l'ha nessun altro, beh comunque direi che sulla riapertura abbiamo fatto perché il gran casino del pasticcio del governo in realtà continua a emergere su quelli che stanno sul territorio che vorrebbero aprire e quelli che stanno a Roma sentendo questi scienziati non vorrebbero aprire. L'altra grande cosa straordinaria della giornata è la storia di Bonafede, lì la storia di Bonafede è fantasticamente ricordata e sintetizzata dalla Repubblica che è diventata quella che un tempo mi sembrava fosse il fatto, il cane da guardia dei magistrati della legalità, non è più il fatto quotidiano che difende Bonafede e difende di Matteo e dice che tra di loro c'è un equivoco, l'equivoco è leggere quel quotidiano evidentemente, ma è Repubblica continua, è il pezzo più bello oggi di Tito che fa il racconto che ci siamo un po' dimenticati perché la questione è molto semplice, Bonafede doveva nominare a capo delle carceri questo Di Matteo, il loro grande mito grillino un po' movimentista eccetera, non lo fa, ne sceglie un altro e questo pazienza. Questo Di Matteo dopo due anni, toc toc, due anni si ricorda di questa fregatura che aveva preso dal suo amichetto, ma il punto vero è che questa cosa la dice, quando la dice? Dopo che sono stati scarcerati 400-500 mafiosi o boss o grandi criminali e soprattutto lo dice dopo che questi criminali sono stati scarcerati perché sono stati scarcerati dopo una rivolta nelle carceri e Tito ce lo ricorda prima ancora che ci fosse il lockdown, ci fu la rivolta nelle carceri e quella rivolta nelle carceri fu fatta con dei segnali di tipica organizzazione criminale, l'andrangata in Calabria fece stare tutti zitti e nel resto dell'Italia invece si faceva casino, questa è la tesi di Tito e questo segnale era forte ed era un segnale che ovviamente era una protesta organizzata nelle carceri, dopo la protesta organizzata nelle carceri il DAP fa una circolare, il DAP è un dipartimento di Bonafede non di Babbo Natale, il capo del DAP era stato piazzato da Bonafede non da Babbo Natale ed era stato piazzato al posto di Di Matteo, beh dopo questa circolare vengono scarcerati 500 mafiosi e 450 ne fanno richiesto oggi ma soltanto lo strillone di Conte di Bonafede cioè Travaglio non mette in relazione queste cose, lui dice ma figurati se Bonafede non nomina Di Matteo perché non era gradito il boss e queste cose le pensa soltanto Berlusconi e la destra, il Caimano è ritornato tale, titola il fatto, il problema non è che il Caimano è ritornato tale, che si applica alla scelta di Bonafede e a Di Matteo gli stessi loro criteri giustizialisti, ma ritorniamo indietro, Travaglio che mi interessa poco ha una posizione imbarazzante, ma la Repubblica, la Repubblica che su questo ci va con numeri, date, questioni mettendo in campo Stefano Folli, il caporedattore Cappellini, Molinari, il giornale che ha questa posizione dicendo ma stiamo attenti a non scarcerare perché dopo il pezzo di Repubblica con i 360 scarcerati Bonafede si è presentato alla Camera, in Parlamento e ha detto farà un decreto per evitare queste scarcerazioni, quindi dopo quell'inchiesta si è presentato in Parlamento, peraltro quell'inchiesta, quei numeri, li conosceva anche Bonafede, spiega oggi benissimo il quotidiano diretto da Molinari e che cosa fa invece Travaglio? Travaglio l'unica cosa che fa in 50 righe insulta i giornalisti, Molinari diventa Sambuca Molinari, Folli non gli va bene, Cappellini viene insultato che è una delle persone più equilibrate che io conosca, io non riesco a capire come si possa ancora fare un giornalismo come fa lui che è soltanto l'insulto ma non sulle questioni su cui ci possiamo insultare a vita e combattere ma sulle persone, cioè Molinari è diventato Sambuca Molinari e la battuta che fa ridere soltanto a quegli amichetti forse di Travaglio con cui si trova a cena alla barchetta, la battuta mi sembra veramente ridicola, comunque sia la cosa ovvia è quella che oggi titola piena pagina il come si chiama il Repubblica la sconfitta di Bonafede, quello che doveva fare il decreto per evitare che uscissero i boss dal carcere deciso da un dipartimento importantissimo del suo ministero, la sconfitta è totale ma vi segnalo anche Ferrarelle, perché Ferrarelle invece la prende su una posizione un po' diversa, la demagogia dei PM contro i giudici, cioè Ferrarelle se la prende contro i PM, quindi di Matteo e tutti gli altri della magistratura inquirente che considerano i magistrati che hanno scarcerato i mafiosi poco più dei delinquenti, quei magistrati e dice Ferrarella, perché ovviamente non si può non essere anti-berlusconiani se si lavora al Corriere della Sera, dice questa foga dei PM contro i magistrati che scarcerano beh, e il loro E dice Travaglio, anche se non ha il coraggio di fare il nome a Ferrarella ma si capisce che Ferrarella attacca Travaglio e Di Matteo, beh Ferrarella attacca questi due e dice sembra di risentire i toni che usava Berlusconi contro i magistrati, contento lui, contenti tutti, però insomma in questa vicenda della giustizia quello che succede è che ci sono mille delinquenti oggi per strada che sono usciti per il Covid, mentre il Covid sta finendo e il ministro Pianucola dicendo farò un decreto per rimetterli in carcere, non si sa che cosa sia meglio o peggio, anche perché un decreto ad personam contro l'autonomia dei magistrati che li ha fatti uscire è una cosa favolosa, così come favolosa è l'istoria oggi di Repubblica di una pagina intera, del boss 78enne che rientra nel suo condominio e che secondo quello che dice in un'intervista sul fatto Cafiero Derao dà un segnale, questo della liberazione di alcuni boss, perché sono solo tre quelli in 41 bis, mentre gli altri sono boss di medio livello, insomma danno un'idea che i boss alla fine la fanno sempre franca. Terzo tema di giornata è l'Europa, tutti i giornali la prendono una lettera di Gentiloni e Dobrowski, quindi due pesi massimi secondo l'architrave dei poteri della Commissione Europea, che scrivono a Centenaro il presidente dell'Eurogruppo e gli dicono guarda che per accedere al MES non c'è bisogno, una volta che si accede al MES non c'è bisogno di una vigilanza, di una maggiore sorveglianza nei confronti dei paesi che vi accedono, questa lettera sarebbe la prova provata che non c'è nessuna condizione nel MES. Angelo Di Mattia, ex uomo della Banca d'Italia che oggi scrive per il tempo, dice no, non vuol dire assolutamente nulla questa lettera perché non si esclude in realtà una vigilanza normale, e questo ci sta, ma soprattutto dice non si esclude il fatto che finita l'emergenza si possano chiedere maggiori condizioni. Boh, queste sono le posizioni sempre un po' diciamo dalle gulei, non quelle di Di Mattia ma di tutti i giornali italiani perché alla fine questo MES è uno strumento nuovo, l'unica purtroppo prova che abbiamo nel passato è la Grecia, non era il MES, i tecnici ce la raccontano bene, ma insomma io penso che il buonsenso faccia credere a tutti quanti gli italiani che se ti prestano i soldi è difficile che i tedeschi te le regalino o che non pongano delle condizioni. È una questione diciamo soft, che non possono prendere gli avvocati, i legulei, gli economisti, ma è una questione che abbiamo dentro, che noi pensiamo che tutto sommato un controllo forse anche sia giusto da parte di chi ci presta dei soldi. Beh, poi sul decreto liquidità lo Stato che presta dei soldi alle imprese è un flop totale, totale, beh questo flop totale del decreto liquidità per il sole 24 ore è uno dei motivi per i quali il flop del decreto liquidità è che è soltanto 6 anni la durata di questi prestiti, in realtà queste sarebbero regole europee che l'Italia non ha neanche cercato di contrattare, ma oggi il sole 24 ore dice che potrebbe arrivare a 10 anni la scadenza del prestito fino a 25 mila euro, addirittura 12 anni sarebbe un emendamento che fa il governo. Speriamo che sia così, ma il punto è che questi 25 mila euro, temo che non siano così poco appetibili non solo per la durata, ma anche per il principio, un prestito è pur sempre un prestito e alle aziende forse gli interessa qualcos'altro. Riguardo anche alla vicenda dei prestiti, vi segnalo come ieri, chi è che l'ha detto? Mi sembra Patuanelli, il ministro del sviluppo economico, ha detto che le banche non si stanno comportando bene, alcune banche non vogliono fare questa transazione di prestiti. nei confronti delle imprese e quindi Patuanelli fa una denuncia aperta. L'intervista a Renzi, oggi sulla stampa, insomma si svela quello che è un po' il renzismo, cioè che è fenomenale nel fare i penultinatum, cioè dice adesso esco, adesso se non fate così me ne vado via, la buona fede, la bella nova, grande ministro dell'agricoltura, molto brava, ma su questa cosa, forse del 600 mila, anche lì ha detto me ne vado via se non la fate, poi sembra che sia una sanatoria per un mese, per tre mesi, non si riesce bene a capire quanto possa effettivamente servire nel mondo agricolo, beh insomma la sostanza che Renzi oggi propone sulla stampa, sapete anche voi, un contratto di governo, come se fosse Salvini, quindi adesso ci sarà un contratto di governo e Renzi sulla stampa lo annuncia. L'ultima cosa devo dire che vi devo recortare tutti i giorni è la farsa delle mascherine. La farsa delle mascherine nasce dal fatto che del commissario, oggi ce lo descrive fantastico Luca Telese perché trova come l'avevano descritto i suoi amici dell'Annunziatella in una lettera ironica quando lui andava a scuola, è la stessa cosa, uno cattivo, uno che si prende molto sul serio, uno che ha un'altissima considerazione di se stesso e soprattutto molto civettuolo. Allora noi non vorremmo minimamente, come possiamo dire, contraddire il nostro commissario, ma gli vorremmo spiegare che oggi se è vero quello che scrive il Corriere della Sera e non dubito che sia vero e cioè che le mascherine, i prezzi minimi delle mascherine nel resto d'Europa sono a un valore superiore ai 50 centesimi italiani e cioè in Francia e Spagna sono a 96 centesimi, ovviamente saranno poche le aziende nel libero mercato che non esiste in Italia ma esiste nel mondo a vendere a 50 centesimi quelli che in Francia e in Spagna pagano 96 e non penso che francesi e spagnoli le paghino 96 perché vogliono aiutare gli speculatori, penso che lo facciano perché lì non hanno der commissari che stabilisce una cifra per fare il fico, la sostanza è che lui ci fa il fico ma le farmacie non hanno neanche una cavolo di mascherina, ma questo ovviamente al commissario non glielo puoi spiegare, come non puoi spiegare al Presidente del Consiglio Conte che ci aveva spiegato che non c'era l'IVA, cioè l'unica cosa che si poteva fare immediatamente era togliere l'IVA del 22% sulle mascherine o abbassarla al 4% o inventarsi IVA 0. Sapete che è successo? L'IVA è passato due settimane e ancora al 22%, quindi le mascherine costano 50% più 22% d'IVA fa 61%. Allora non chiediamo allo Stato di fare cose che non sa fare, chiediamo allo Stato di fare le uniche cose che potrebbe fare e ridurre le imposte, ma noi siamo dei malati di mente e ancora pensiamo che ci possa essere il commissario Arcuri che stabilisce un prezzo delle mascherine e noi popolo, decomunisti statalisti, siamo lì, ah che bello ha stabilito 50 centesimi e arriveranno a 50 centesimi come il governatore spagnolo della peste manzoniana che stabiliva il prezzo del pane, cosa è successo? Le rivolte di piazza perché il pane e ovviamente i fornai non lo facevano, l'aveva capito Renzo, ma non Arcuri, der commissari che sta lì a decidere come essere pettinato e come dire bene nelle conferenze stampa le sue ordinanze. Bene, direi che per oggi è tutto, appuntamento sul sito nicolaporro.it, tanta economia e tanto racconto della realtà in questo momento in cui l'unica cosa che possiamo fare è stare chiusi in casa, confinati, fino al 18 maggio, boh, vedremo, ciao!